Ben ritrovati con Profili Criminali, questa è l'ultima puntata di questa edizione. Abbiamo cercato di immergervi in quello che è il mondo scientifico della criminologia. Sergio, cerchiamo di sintetizzare quello che sono state i nostri casi, i nostri racconti, se abbiamo fatto diverse esterne, andando sui luoghi di crimini e di crimini anche efferati, partendo da quel concetto basilare. C'è la criminologia come scienza. Abbiamo fatto un viaggio con il nostro staff, con la nostra redazione e soprattutto con i nostri telespettatori. La cosa più bella è che ci scrivono e ti fermano in tantissimi e già ti chiedono quando sarà la prossima puntata e quale sarà il tema della prossima puntata. Quindi vuol dire che siamo riusciti a raccontare alla gente quell'aspetto scientifico e anche quell'aspetto di cronaca sociale che suscita interesse. Siamo stati attenti grazie al brillante lavoro che c'è dietro le quinte perché mi insegni Fabrizia che noi siamo quelli che vedono tutti. Ma in realtà dietro di noi c'è uno staff che lavora quotidianamente e ci permette a noi di lavorare al meglio. Quindi il ringraziamento va soprattutto a loro e siamo riusciti appunto a raccontare la criminologia come scienza e anche a far conoscere agli appassionati crime, agli studiosi e ai professionisti dei casi calabresi che sono finiti nel dimenticatorio. Che è inutile che ti chiedo quale, che già sappiamo chi è. Ne abbiamo raccontati tanti. Sergio, Profili Criminali cammina anche di pari passo con quello appunto che è il tuo impegno come psicologo, come criminologo e di quelli che tu, abbiamo fatto riferimento a quello che è lo staff di redazione, ma anche voi vi supportate di figure professionali, di professionisti del settore che ci hanno tenuto compagnia e sono stati anche ospiti. Certo, innanzitutto Profili Criminali nasce da una nostra idea concreta perché Profili Criminali è diventata la trasmissione in cui abbiamo messo a frutto il nostro lavoro e soprattutto nasce in seno al Master di Criminologia della Calabria. Master di Criminologia della Calabria è una grandissima realtà che mi onoro di dirigere insieme alla Presidente Graziella Mazza e soprattutto il nostro Presidente Onorario Francesco Bruno, il Professore Bruno, patrimonio della Calabria. E tutto quello che voi avete visto, tutti i docenti che si sono alternati a profili criminali, hanno dato il contributo, ma in sintesi è lo stesso contributo che danno nella ricerca e danno quotidianamente all'interno del loro lavoro. perché non è stato facile organizzare tutta questa lunga serie di trasmissioni, però è stato bellissimo e ce l'abbiamo fatta. Bellissimo soprattutto perché i casi che abbiamo raccontato servono a tenere accesi i riflettori su fenomeni e questioni che abbiamo sempre detto e sottolineato non è sempre l'altrove, ma è anche il vicino. E quindi vi abbiamo raccontato anche le storie di quelli che sono i centri antiviolenza. Siamo stati a scoprirli direttamente nei loro centri d'ascolto appunto. Abbiamo raccontato la storia delle vittime di violenza e la cosa bella, l'aspetto positivo, è che con loro abbiamo anche starato un rapporto di amicizia e di aiuto e supporto a quelle che sono le loro iniziative. Perché non dimentichiamo che anche le vittime di violenza, una volta passato quello che è il dolore, comunque si schierano in prima linea. Certo, qui diciamo che siamo nell'era della comunicazione universale. Il mediatico positivo, il giornalismo investigativo, che è quello che abbiamo fatto anche noi, è quello che serve a dare una risposta e soprattutto a permettere, a dare voce a chi non ha voce. Noi abbiamo non solo creato dei servizi utili alla prevenzione, infatti il nostro messaggio si chiude sempre con un consiglio sull'intervento e sulla prevenzione, ma soprattutto abbiamo aiutato tante donne, tanti casi ad essere noti. Mi viene in mente Marina Lento, che partendo da una bruttissima vicenda personale, ha fondato uno sportello, più sportelli per aiutare altre donne, come non possiamo citare Caterina Villirillo, in cui da quella terribile tragedia sta creando un movimento nazionale per aiutare altre persone. Noi siamo stati lì, ci sono stati tantissimi altri casi, per non parlare di uno dei casi più noti in Calabria, che pochissimi ne parlano, che è il caso dell'unico serial killer calabrese, passa l'acqua e siamo stati nei luoghi che lui abitualmente frequentava. Naturalmente ringraziamo anche quelli che appunto, oltre a quelli che tu hai citato, sono i centri d'ascolto ma non sono, le associazioni come il CIRF, il Centro Italiano Femminile, e i vari Presidente regionale e provinciale, che comunque ci supportano anche dal punto di vista scientifico, su quelli che sono anche i dati, ci raccontano purtroppo le storie paese per paese. Sergio, quindi noi chiudiamo qui questa edizione 2018-2019, comunque lasciandovi anche lo spunto che durante l'estate probabilmente... A proposito dell'estate, volevo di solito chiudere sempre Fabrizia, ma questa volta chiudo io e non me ne vogliate, Profili Criminali sarà partner e parte di una grandissima iniziativa nazionale che avrà luogo a Soverato e sarà appunto l'estate crime in cui verranno esperti e professionisti da tutta la nazione in Calabria per fare una due giorni scientifica e anche culturale sui temi più importanti della criminologia e sarà appunto nella nostra terra. Quindi Profili Criminali non vi abbandona nemmeno d'estate. E ci troverete anche in altri comuni sparsi per la Calabria, perché sono diverse le sollecitazioni che abbiamo avuto e gli inviti ricevuti e per questo vi ringraziamo e vi diamo appuntamento con Profili Criminali al prossimo anno. Grazie a tutti.